Buongiorno e bentrovati 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 Rischia la morte nel Venezuela a rischio golpe, questo il dramma di un ragazzo di 32 anni, figlio di un avezzanese bloccato a Maracaibo nel Venezuela in piena crisi politica ed economica. Il giovane figlio di un avezzanese è l'appello dell'amico giornalista per cercare di risolvere la situazione. Torniamo sempre sul giornale, nel taglio basso, Gran Sasso, Laboratorio Ruzzo, l'acqua è potabile. Dai risultati delle analisi di potabilità effettuate in regime di routine sui campioni di acqua prelevati nelle reti di distribuzione e ingestione, le acque provenienti dall'opera di captazione del Gran Sasso ed immesse in rete risultano essere conformi per il consumo umano e dunque potabili. Rassicura così Gran Sasso Acqua S.p.a. in merito alle preoccupazioni su possibili contaminazioni derivanti dalle attività dei laboratori sotterranei di fisica nucleare. Preoccupazioni che sono aumentate dopo un servizio andato in onda sulla trasmissione di Mediaset Leiene. Nel taglio alto, volle idea 2, l'Ortona chiude a Padova ma pensa già al futuro e poi la Lega Pro, Teramo oggi contro la Sambla, svolta per la salvezza e ancora la Serie A. Pescara ti racconto com'era il mio Lapadula. L'ex trainer del Teramo, Vincenzo Vivarini, presenta la sfida di domani contro il Milan. Stendardo dovrebbe essere della partita grande attesa per Donnarumma. Andiamo ancora avanti con la lettura delle prime pagine regionali. Ora ci spostiamo sulla città, quotidiano della provincia di Teramo. Identificato lo sparatore in piazza, il titolo di apertura, i carabinieri stringono il cerchio attorno all'autore del gesto dimostrativo del venerdì notte, Teramano. E poi a centropagina la fotonotizia, Giulianova Amarozzi sbotta sulle palazzine di piazza Dallachiesa, le chiameremo Arbor House. E ancora assegnate le nuove deleghe di giunta, Teramo Brucchi sbotta sul compenso da sindaco e sui costi della politica. Nel taglio alto, sottratta Martinsicuro da un cleptomane seriale, trovata a Rimini, l'auto rubata in piazza Cavour. Di spalla la giudiziaria, abuso dei figli della compagna durante le vacanze al mare, indagato un turista romano. E poi a Martinsicuro le multe antiprostituzione saranno pagate a rate. E ancora l'Aquila, schiavi della ricostruzione, sono altri otto gli indagati. Nel taglio basso, Rosetto degli Abruzzi, Villa Clemente snobbato sott'anelli. E poi la Lega Pro, Teramo carico contro la Samb, vincere per raggiungere la salvezza. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato al nazionale, iniziando dal Corriere della Sera. Le radono i capelli per il no al velo tolta ai genitori e la notizia con la quale viene aperto il giornale. Il coraggio della quattordicenne ha chiesto aiuto ad un professore. Poi la bella fotografia di Papa Francesco in visita ad un centro per persone non vedenti. La carezza della bimba che non vede, ma che è riuscita in qualche modo a toccare Papa Francesco. E poi i dazzi, la sfida degli Stati Uniti al mondo, noi in guerra commerciale. Anche gli industriali americani contro il protezionismo del nuovo presidente Donald Trump. Andiamo sulla Repubblica. Unione Europea ripresa fragile, Padoan, noi diversi dalla Germania. Trump dice che siamo in guerra commerciale nel milino degli Stati Uniti, la Cina e Berlino. E su questo argomento, diciamo, sui dazzi, sui superdazzi degli Stati Uniti c'è anche una bella vignetta di Altan. Trump sta esagerando, diciamogli che se non la pianta gli scateniamo contro il Cavalier Banana. Questa è la vignetta di Altan questa mattina sulla prima della Repubblica. Poi la politica interna, in particolare le beghe del 5 Stelle. Scoppia il caso Genova, indagati Grillo e Di Battista per diffamazione. Il caso è quello delle primarie per la scelta del candidato a sindaco a Genova. Andiamo sulla stampa. Il quotidiano torinese, legge elettorale, il Movimento 5 Stelle tenta il PD. Questo è il titolo di apertura. Richetti, braccio destro di Renzi, va garantita la governabilità. Salvini dice, Silvio ha sostenuto tutti. Basta. Premi a chi vince, Orlando ed Emiliano, no ad alleanze con Berlusconi. Questa è una fase un po' confusa pre-elettorale. La scadenza della legislatura nel 2018 ovviamente sta facendo sì che anche la politica sia in una fase un po' convulsa. C'è il congresso del PD per la scelta del nuovo segretario alle porte. Dunque è una fase abbastanza confusionaria della politica italiana. E poi a centropagina, 11 settembre, le foto segrete del Pentagono. L'FBI svela le immagini dei rottami dell'aereo schiantato contro il cuore della difesa statunitense. Andiamo avanti, il sole 24 ore, uno dei quotidiani economici italiani, forse, anzi senza forse, il principale. Dazi statunitensi, la rivolta delle imprese, Marcegaglia, la border tax sarebbe una dichiarazione di guerra. Trump firma due decreti contro gli abusi commerciali. Il no del B7 boccia lavorare ad una soluzione dell'interesse di tutti. E poi, iperammortamento esteso a fine 2018 nella manovrina, entrerebbe la proroga del termine entro cui l'impresa deve completare l'investimento. Nel taglio alto, il consueto focus, primo sia la legge europea 2017, rimborsiva meno costosi, garanzie con indennizzo. Restiamo ai quotidiani economici, andiamo a vedere anche la prima di Milano Finanza. Superstipendi, le più alte buste paga dei capi delle società quotate a confronto con i profitti di bilancio e le performance di Borsa. In due superano i 10 milioni, il primo è Marchionne che ha fatto 13. Dunque questa l'apertura sui superstipendi dei manager e gli Elkan Agnelli in Borsa sono ai massimi. Poi c'è una notizia interessante che riguarda il calcio e i diritti televisivi. La Serie A in Europa rischia la B. Andiamo avanti, il messaggero adesso, Superdazzi. Trump ha già firmato, questa è l'apertura, operativi due decreti per contrastare i prodotti dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti siamo in guerra commerciale. La mossa alla vigilia del vertice con il presidente cinese Xi Gentiloni. La risposta arriverà dal G7. Attacco al Pentagono, scusate le foto mai viste, quelle diffuse dall'FBI. E poi ancora, radia a zero la figlia perché rifiuta il velo e il PM e gliela toglie. Ha 14 anni e bengalese, vive a Bologna, affidata ad una comunità. La Matone dice è stata una scelta giusta. Andiamo ancora avanti con i quotidiani nazionali. Andiamo a vedere la prima del fatto quotidiano. L'abusivo bomba minzo sulle primarie. Il PD vuole rinviare il caso a maggio per evitare un'altra figuraccia. Sulle dimissioni si vota scrutinio segreto. Renzi teme un salvataggio bis dell'ex direttore del Tg1, oggi senatore. Nel taglio alto, Madia, il plagio sarebbe impossibile ad Harvard. Copia e incolla, social scatenati sulla ministra Furbetta. E poi la giustizia ad migrantes del compagno Minniti, diktat del securitario democratico. Andiamo ora sul manifesto. Cambiamo regime per quanto riguarda gli argomenti di apertura. L'isola dei faziosi, con la foto di Fabio Fazio. Le star della TV pubblica non ci stanno. Il tetto di 240 mila euro l'anno fissato per i conduttori è inaccettabile. Fabio Fazio capeggia la rivolta, minaccia la RAI di andarsene e attacca l'invadenza della politica. Dopo il no dell'avvocatura, la palla passa al governo. E poi ancora scontro totale a Genova. Pesto 5 Stelle, Grillo indagato in casa. Ora andiamo sul tempo. Il quotidiano romano apre con la vicenda di Alatri. Parla alla fidanzata di Emanuele. Le sue ultime parole. Amore scappa. Intervista al buttafuori. Non sono io il killer. L'assassino faccia l'uomo. Il mio lele ammazzato per uno scambio di persona. Queste le parole della fidanzata di Emanuele. E poi Libero. Siamo nelle mani di questo qui. Un alcolista solo al comando. La Polonia accusa davanti al Papa il presidente Juncker dormiva come uno sbronzo al parco. Siamo all'euro delirio. L'esercito europeo non c'è ma già i tedeschi pretendono di guidarlo. E qui vedete buon riposo presidente. Le foto che testimonierebbero secondo Libero il sonnellino di Juncker. Il giornale ora sanguisughe di Stato. Tasse di successione e batosta in arrivo. Intanto le province sopravvivono con le nostre multe. E poi Trump non molla. Guerra commerciale con i dazzi. Ancora risvegli tardivi. Fazio scopre la RAI lottizzata perché gli tagliano il cachet. Andiamo sulla verità. Completiamo il quadro dei quotidiani di centrodestra. Fallimenti sospetti. Dopo gli spari si indaga sugli affari dell'imprenditore con Renzi e Lotti. Due aziende di Andrea Bacci. Già oggetto di intimidazioni. Sono in dissesto. I magistrati vogliono capire se è stato troppo generoso nel restauro della casa del Rottamatore. Nella valutazione di quella del ministro. E poi intervista con Maroni. Meglio Zaia Di Salvini come premier. Il mattino di Napoli. Napoli scontro tra istituzioni. Tensione dopo il fuorionda sulle questore. Il sindaco non va da Mattarella. Era in consiglio. Gli ho telefonato. De Magistris c'è un complotto contro la città. De Luca è il governatore della regione Campania. Rivoluzionario di Cartapesta. E poi il reportage. Il presidente è fra i treni di Pietrarsa. Un luogo che lascia senza fiato. Così il capo dello Stato. Andiamo sulla gazzetta del Mezzogiorno. Il quotidiano pugliese apre con una notizia che riguarda le primarie del Partito Democratico. I tre rivali danno i numeri. L'ironia di Emiliano. Già superata la soglia del 5%. Volevamo il pathos comunarie 5 stelle. Grillo e Di Battista indagati per diffamazione a Genova. Andiamo sul secolo XIX. Ora il quotidiano genovese non poteva far altro che aprire con il caso Genova. Indagati Grillo e Di Battista. Legge elettorale. I 5 stelle tentano il PD. Serve un premio anti-inciucio. Intanto continua il caso giudiziario con la querela di Cassimatis per diffamazione al leader di 5 stelle e a Di Battista, uno dei componenti del cosiddetto direttorio. Andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del nord-est. Distruggere le chiese è un obbligo. Terrorismo. Ieri i primi interrogatori dei kossovari che volevano fare esplodere Rialto. Nessuno ha parlato. Le intercettazioni shock della cellula islamica. Ora tocca a San Marco. Anche l'Italia sta facendo la guerra. Queste insomma le notizie non certo confortanti che arrivano dall'inchiesta sul terrorismo. E poi proseguiamo con i titoli nazionali. Ma adesso andiamo a dare un'occhiata ai principali quotidiani sportivi. Passiamo alla Gazzetta dello Sport. Dunque tutti i dubbi e i retroscena contro Brexit o no? Stop alla trattativa di rinnovo col Chelsea. Chiede più garanzie. L'Inter ora ci pensa su Suning a 5 assi per poterlo convincere. Dunque ci si interroga sul futuro di Antonio Conte. alla guida del Chelsea. Nel taglio alto domani alle 20.45 la super sfida del San Paolo. Napoli-Juve-Sarri-Aunansi-Caffamato. Allegri-Al talismano-Chiellini. Chiaramente fare i puntati sulla super sfida del San Paolo. con anche il ritorno da ex nel suo ex stadio appunto di Higuain. Di spalla Bizzarri dice 39. Donna Rumma 18. C'è porta per te tra nonno e baby. Pescara-Milan generazioni contro. Ovviamente generazioni di portieri. Closing per quanto riguarda i rossoneri. si va verso l'anticipo al 13. Nel taglio basso la serie B. Frosinone salvo con Maculu. La Spal ricasca. Chance Verona. E poi il tennis. Ciao Miami. Il sogno svanisce. Fognini-KO contro Rafa Nadal. Andiamo sul Corriere dello Sport. La Juve si blinda il titolo di apertura. Higuain torna per la prima volta a Napoli. Bianconeri alzano il muro per la super sfida. Arrivo a cena al solito hotel. I bianconeri 60 stanze delle 80 disponibili. La società azzurra ai suoi tifosi. Il clima sia sereno. E tutti quanti ci auguriamo che sia una bella festa di sport. E che non ci siano altri problemi. Nel taglio alto Spalletti insiste vinco o vado via. C'è Roma-Empoli alle 20.45. Il tecnico gelido Pallotta conosce il mio pensiero. Intanto Sassuolo-Lazio si anticipa alle ore 18. E poi il colloquio di Spalla. Minniti riportare le famiglie allo stadio. Parla il ministro dell'interno. Avere l'Olimpico senza più barriere è uno spot per il calcio italiano. Le curve libere ma trasparenti. Club decisivi con gli ultra. Impianti di proprietà sono fondamentali. Questi alcuni stralci dell'intervista al ministro degli interni. E poi gli anticipi di B. Il Frosinone rimonta e allunga sulla spalla. Vedete la foto di Pasquale Marino. Tra l'altro ex tecnico del Pescara. Tutto sport sotto attacco. Juve che fai? Questo è il titolo di apertura. Domani mercoledì doppia sfida rovente a Napoli. Società e squadra nel Mirino. Persino il sindaco De Magistris anticipa i guainne fischi e pernacchie. I bianconeri chiamati a rispondere sul campo. E non solo. Nel taglio alto sembro Ibra, voglio il toro. Intervista a Kovacevic. Il baby fenomeno croato. Grande club, grande allenatore. Una tifoseria da brivido per quanto riguarda i colori Granata. Di spalla l'intrigo. Conte-Inter. La gente apre. Si arriva l'offerta. Antonio Conte, ex CT della Nazionale, potrebbe anche pensare di tornare in Italia. Nel taglio basso Spalletti si gioca alla Roma. Stasera l'Empoli. Martedì la Lazio in Coppa Italia. Il tecnico insiste. Se non vinco vado via. Questo per quanto riguarda anche i quotidiani sportivi nazionali. Abbiamo qualche minuto per andare a vedere insieme anche i quotidiani online. Allora lo facciamo ritornando sul Corriere della Sera, sul portale online del quotidiano milanese. Era stata a zero perché rifiutavo il velo. La 14enne che ha chiesto aiuto al prof. La notizia che troviamo in primo piano. Allontanata dalla famiglia con le sorelle. La ragazza bolognese che ha subito il taglio dei capelli da parte della madre. Perché si è rifiutata di portare il velo islamico. Quando sui corpi delle donne si gioca lo scontro tra diversi modi di vivere. Ovviamente quello occidentale è molto molto differente da quello orientale. E poi la mossa del Presidente. Trump firma i decreti sui dazi. Chi viola le regole pagherà. Il capo di Stato statunitense ha firmato i due provvedimenti che dovrebbero servire a recuperare i 500 miliardi di deficit nella bilancia commerciale con il resto del mondo. Finita l'epoca in cui c'è chi ruba all'America prosperità con le politiche commerciali. E poi la rivelazione. Stati Uniti, CNN, nuovi pc bomba dell'Isis non rilevabili negli aeroporti. Ricorderete l'allarme di qualche giorno fa per quanto riguardava le apparecchiature elettroniche. In particolare telefonini e iPad. Adesso l'allarme si estende anche ai pc bomba. E poi Movimento 5 Stelle, indagati Grillo e Di Battista per diffamazione. Andiamo sulla Repubblica.it che mette in primo piano la Brexit, il piano dell'Unione Europea, gli accordi sul futuro dopo l'uscita di Londra. Commercio, gibilterra e debiti da saldare nelle linee guida indicate da Tusk. E poi la sicurezza, nuovi pc bomba dell'Isis non rilevabili controlli in aeroporto, dispositivi non ammessi su voli dal Medio Oriente e Africa. Ancora Paraguay, manifestanti invadono e incendiano il Parlamento. Purtroppo l'America Latina continua ad essere tormentata da bufere politiche e da scontri e guerre civili. E poi Stati Uniti, Dazzi, Trump ha firmato i decreti e attacca. Siamo in guerra commerciale, chi viola pagherà. Lasciamo i portali online nazionali e andiamo a vedere quelli regionali. Iniziamo da primadanoi.it. Del Vecchio lascia il Comune, ecco le cose che ho fatto. Ieri la conferenza stampa di addio a Palazzo di Città da parte di Del Vecchio, che andrà a capo della segreteria del Presidente della Regione, che tra l'altro è stato il suo vecchio sindaco sempre a Pescara. E poi ricostruzioni bussi, mazzette dietro i bandi post-sigma, altri otto indagati. E poi cielo, terra e sottosuolo, toto su più fronti con la paura di contenziosi milionari. Ancora sanità in 400 in Corteva Pescara per difendere l'ospedale di Popoli. Andiamo su Abruzzo Web. Scoop clamoroso, Francesca Pascale candidata a sindaco dell'Aquila con Forza Italia. Le indiscrezioni sulla giunta, l'Iris lavori pubblici a Deramo. Il clamoroso colpo di scena all'Aquila sarà Francesca Pascale, 31 anni, la compagna dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni del prossimo 11 giugno lo ha preso Abruzzo Web in anteprima assoluta da una fonte primileggiata con l'informazione che viene direttamente dalle segrete stanze della sede romana di San Lorenzo, in Lucina, di Forza Italia. Dunque avrebbe del clamoroso se questa rivelazione corrispondesse a verità. E poi Teramo, le nuove deleghe di Brucchi, nasce l'assessorato alla ricostruzione. Andiamo su ABR News 24. Teramo, con il caldo iniziano gli incendi a case di Trento, le fiamme danneggiano la linea elettrica. Ancora avrebbe abusato dei figli della compagna romano indagato a Teramo per violenza sessuale. E sempre notizie dal Teramano. Terremoto a Teramo continuano gli sgombri. Oggi altre 16 famiglie costrette a lasciare casa. Da Pescara invece, dalla regione, 350 mila euro per la pulizia straordinaria del fiume. E poi Pescara tributa l'ultimo saluto all'ex sindaco Carlo Pace. Tanti politici di ieri e di oggi tra la folla. Noi ci fermiamo per un break pubblicitario e per andare a vedere insieme il meteo. E poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Allora torniamo alle notizie dalla nostra regione. Lo facciamo ripartendo dalla pagina di primo piano del quotidiano Il Centro. Abruzzo contro i caporali. Ore e ore sotto il sole a 20 euro al giorno. Agromafia, il dramma degli invisibili sfruttati e senza diritti. Ma gli agricoltori non ci stanno. Solo poche mele marce e abusi anche in edilizia. Ma si parla sempre di noi. Nel taglio basso bisogna affidarsi alle ditte locali. Dice Barattelle del Lance Aquila. Sono una garanzia per i lavoratori e i committenti. E poi operai sfruttati lasciata a Dei. D'inchiesta all'Aquila. Il manager indagato disubentra l'imprenditore di Paola. Andiamo avanti ora con il quotidiano Il Centro. Ma cambiamo pagina. Passiamo alla pagina Abruzzo. La sospensione medaglia al merito. Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle. Espulso 27 giorni dalla Camera per essermi battuto contro il privilegio inaccettabile del vitalizio. La delibera approvata dal PD in ufficio di presidenza è una pagliacciata. Hanno tagliato almeno 3 milioni su 130 per fermare la nostra proposta. E poi la sanzione dopo la protesta a Montecitorio. Sono in tutto 42 deputati del Movimento 5 Stelle. Sospesi per aver esposto in aula a Montecitorio cartelli contro i vitalizi. E poi Toto insiste. Pronti 300 milioni per bussi. La holding scrive al sindaco. Progetto di bonifica e reindustrializzazione. Obiettivo 350 posti di lavoro. Andiamo avanti. Prestiti a tasso zero per le PMI abruzzesi. Accordo siglato tra Unicredit, Confesercenti e Commerfin. Plafon di 10 milioni di euro per le imprese con meno di 9 dipendenti. La misura è rivolta alle aziende che abbiano subito i contraccolpi dei recenti eventi calamitosi. Il pacchetto di misure sarà attivo fino al 31 di dicembre. Scendiamo ancora. Sanità. Sbloccati 70 milioni per gli adempimenti dei LEA. I livelli essenziali di assistenza del 2014. Banca Italia. Da cessione 4 banche. Possibile recupero di 250 milioni di euro. Tra le 4 banche c'è anche Carichietti. e poi la solidarietà dalla FG 1936 stage formativi per 10 giovani abruzzesi. Andiamo avanti ancora. Passiamo alla pagina Abruzzo del messaggero. Dazzi. La scura di Trump sui tesori dell'Abruzzo. Col diretti ad alto rischio le esportazioni di vini, olio e formaggi con marchi di qualità. I commercianti. E' un colpo alle imprese che hanno puntato sulla innovazione. E' chiaro che i dazzi doganali per il nostro export agroalimentare sono davvero deleteri. E poi Roccaraso. Domani chiudono gli impianti. Stoppa la stagione sugli sci che prosegue invece nelle altre stazioni dell'Aquilano. Nel taglio basso, Gran Sasso, Laboratori e Ruzzo, acqua potabile. Il caso, lo ricordirete, dell'acqua contaminata, acqua captata dal Gran Sasso dove ci sono i laboratori di fisica nucleare, le analisi sembrerebbero essere rassicuranti. Visto che ci siamo, apriamo la pagina di Pescara del messaggero. Addio all'uomo gentile e generoso. Si parla ovviamente di Carlo Pace. Ieri sono stati celebrati i funerali nella chiesa di Sant'Antonio a Pescara. Due le parole ricorrenti nelle eseque dell'ex sindaco per nove anni al timone della città come primo cittadino. Chiesa di Sant'Antonio Gremita. Molti politici di ieri e di oggi hanno testimoniato affetto alla moglie Rossana. Bella e breve la stagione del sindaco dei cittadini. Questo è un pezzo che ricorda quegli anni le grandi speranze e le rapide disillusioni legate alla riforma di cui fu un interprete più autentico. I volti, l'abbraccio bipartisan della politica tra i banchi ex colleghi e l'amico Ruffini. Allora andiamo a vedere il servizio curato da Andrea Costantini. Poi torniamo sui nostri giornali. Tante persone hanno voluto dare l'ultimo saluto all'ex sindaco di Pescara, Carlo Pace, deceduto nella mattina di martedì scorso a causa dei traumi riportati il giorno precedente quando l'ex primo cittadino era stato investito da un'automobilista in via Pellico. Cremita la chiesa di Sant'Antonio di Pescara, molti cittadini e diversi esponenti delle istituzioni presenti dal presidente della regione D'Alfonso al sottosegretario Chiavaroli, il presidente della provincia di Pescara Di Marco e tra gli altri il sindaco di Pescara Alessandrini, di Chieti, di Primio, di Montesilvano, Maragno e l'ex rettore dell'università di Chieti Pescara Crescenti. La messa è stata celebrata dal parroco Don Nicola Petrone, il quale nel corso dell'omelia ha ricordato la figura di Carlo Pace politico serio e onesto, quando poteva faceva del bene per la mensa dei poveri di Sant'Antonio e chiedeva sempre se c'era bisogno di qualcosa ai collaboratori, ha detto padre Nicola un cuore grande, quello del nostro fratello che oggi siamo qui a salutare la morte non è l'ultima parola perché noi continuiamo ad esserci nella vita eterna. Al termine della messa la figlia Laura, anche a nome della madre Rossana e del fratello Bruno, ha voluto ricordare il papà. E proprio il ricordo della figlia Laura è in primo piano sul quotidiano Il Centro Sarai la nostra forza, grazie per essere stato mio padre. Queste le parole Carlo Pace unisce i politici folle in lacrime per l'addio e il titolo sui funerali dell'ex sindaco investito da un'auto, come abbiamo già sentito nel servizio. La pagina di Pescara però ci propone anche il caos dei bollettini tari, niente sanzioni se si paga entro 15 giorni, proroga di due settimane per la prima rata dell'imposta scaduta ieri, fila di 200 persone agli uffici del Comune per chiedere gli F24. La proposta del centro-destra, centinaia di osservazioni contro il mercatino etnico nel tunnel della stazione, prosegue la battaglia su questo argomento. Andiamo ancora avanti con il giornale Il Centro. Le pagine di Pescara, la manifestazione di ieri, balli e giro tondi in strada per l'ospedale di Popoli, cittadini, associazioni ed operatori sanitari in corteo fino alla sede della regione, Galli e i sindaci aquilani si rifiutano di incontrare Lolli, D'Alfonso che era assente ieri nel Palazzo della Regione, li convoca per il 7 aprile. Allora, andiamo a vedere il servizio su quanto accaduto ieri. Qui non molleranno i sindaci, non molleranno i comitati, non molleranno i cittadini e continueremo la battaglia tutti insieme. No alla chiusura dell'ospedale di Popoli, lo hanno detto a gran voce con un sit-in davanti alla sede della regione Abruzzo a Pescara, i cittadini e i sindaci di 22 comuni della Valle Peligna, della Val Pescara e dell'Alto Piano di Navelli, assieme ai rappresentanti del comitato che si batte per la salvaguardia del presidio ospedaliero. In ballo c'è il futuro del Santissima Trinità, segnato dall'applicazione del decreto Lorenzine destinato al declassamento. Al momento le speranze dei cittadini e dei rappresentanti politici locali sono legate da un lato all'emendamento al decreto terremoto presentato dal deputato PD Castricone per congelare l'applicazione del declassamento, dall'altro alla mozione di Forza Italia approvata all'unanimità in Commissione Sanità regionale per impegnare il Presidente della Giunta e l'assessore alla Sanità a distituire il tavolo tecnico per formulare una proposta tecnica di riorganizzazione dell'ospedale di Popoli. Proposta che però i rappresentanti del comitato avanti tutto hanno già ideato e messo su carta in una legge regionale di iniziativa popolare che a breve verrà protocollata. Non è una proposta sterile, è una proposta che si basa su dei dati tecnici, sui deliberati stessi della Regione e dei vari emendamenti che sono stati fatti. Popoli deve essere riembito di tutto ciò di cui è stato svuotato per ridimostrare che non è un ospedale da chiudere ma un ospedale da salvaguardare. Il clima della manifestazione si è subito scaldato ed è stato tutt'altro che amichevole. I sindaci avrebbero voluto parlare con il Presidente D'Alfonso, assente per altri impegni istituzionali. Alle 11 sono entrati in Regione ed hanno atteso all'incirca mezz'ora l'arrivo del Vice Presidente Giovanni Lolli, poi alle 11.35 la decisione di abbandonare la Sala Filomena degli Castelli e la delusione per non essere stati ricevuti che è stata manifestata così. Io penso che questo sarebbe stato un grande segno di rispetto nei confronti di quelle popolazioni che oggi stanno pagando un prezzo pesante perché noi veniamo penalizzati su tutti i fronti. La sanità pubblica va difesa a tutti i costi perché i nostri cittadini hanno gli stessi diritti dei cittadini della costa. Il problema della politica sanitaria nella Val Pescara è rappresentato anche dal rischio di ridimensionamento, se non di chiusura, ad esempio del distretto sanitario di Scafa. Il Vice Presidente Lolli è arrivato qualche minuto dopo l'uscita dal Palazzo della Regione, rendendosi disponibile subito al confronto. Io vi voglio chiedere alla delegazione se vuole venire, io sto qua e l'incontro volentieri. Era alle 11. Scusate ma io stavo da un'altra parte. Però da parte dei cittadini, del comitato e dei sindaci c'è stato un secco no. Il nostro interlocutore, hanno ribadito, è e resta ad Alfonso. Con il Presidente l'appuntamento è stato fissato per il prossimo venerdì. Anche i lupi in corteo per difendere l'ospedale di Popoli. Vediamo come ha trattato il messaggero questa notizia. Inoltre 400 con il gruppo folcloristico in regione a difesa della Santissima Trinità. Assente da Alfonso contestato Lolli e lo abbiamo visto. Andiamo, anzi torniamo sul quotidiano Il Centro per vedere le altre notizie da Pescara. Movida violenta, botte nel parcheggio quattro giovani nei guai, individuati gli aggressori di due ragazzi picchiati vicino al bingo. La sera prima c'era stata una lite a Pescara Vecchia. E poi l'appello di Giulio De Collibus dell'Archeoclub. Il centro storico è nel degrado, così ci presentiamo ai bersaglieri. E nel taglio basso vi è i lavori di pulizia nella Pineta. Dopo le fotodenuncia del centro il Comune comincia la manutenzione. Cambiamo argomento, colpo di scena in udienza. Daniele Toto ricusa il Tribunale di Pescara. L'ex parlamentare indagato per una presunta bancarotta va in Cassazione. Giudici non imparziali, il processo si faccia altrove. Questa la richiesta. E nel taglio basso, incidente con lo scooter grave un 78enne. Il ciclomotore si è scontrato in strada Pandolfi con la macchina che lo precedeva. L'anziano è stato operato. Ancora a Comune corsa la Presidenza. Le liste civiche contro il PD. Pagnanelli non va eletto. Il candidato dei Democratici rischia di non avere i voti mercoledì in Consiglio. Spunta l'ipotesi di far correre la Berardi. Il centrodestra pronto ad appoggiarla. Dunque non è chiusa la partita per quanto riguarda il rimpasto dovuto proprio all'addio al Comune di Del Vecchio che ieri ha salutato tutti e si è commossa. Il Vice Sindaco lascia l'incarico dopo 33 mesi per andare con D'Alfonso al suo posto Antonio Blasioli che ricopriva l'incarico di Presidente del Consiglio. Ecco perché la corsa alla poltrona di Presidente e Del Vecchio ha illustrato un po' tutta la sua azione amministrativa e le opere che lascia alla città. Nel Taglio Basso lavori fermi per la pista ciclabile in via Aldo Moro e poi D'Alessandro Che alla pulizia del fiume intervento straordinario con 350 mila euro. Andiamo ancora avanti. La pagina di Montesilvano, degrado urbano, proteste e servizi, rione, colonnetta, terreno di conquista per giovani teppisti, schiamazzi fino a notte tarda, muri imbrattati e vandali nel quartiere. Scusate, recuperiamo l'articolo, la rabbia dei residenti e un'interrogazione. Ancora lavori affidati alla ditta rigenera, al via la pulizia delle spiagge, ma a chi paga ci si chiede. E poi strade a pezzi da rifare, investimenti da 1,2 milioni, a Spoltore l'amministrazione di Lorito rinuncia a realizzare le grandi opere per garantire la manutenzione degli asfalti, lavori che saranno portati avanti in due anni. Nel taglio basso, terapie gratuite per gli autistici, si celebra la decima giornata mondiale, martedì, il progetto I bambini delle fate. La pagina di Francavilla e della bassa Val Pescara, rischio 20 lavoratori di asilo e casa di riposo. Allarme del sindacato Fialz per l'istituto Sorelle della Misericordia, le suore hanno venduto all'hotel Silvi il centro gestito da tre cooperative. E poi acquisti vincenti solo nei piccoli negozi, concorso a premi fino al 15 aprile a Francavilla per incentivare le vendite nelle vie del commercio. Andiamo avanti, la pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, l'inchiesta ricostruzione, sequestrati, case e garage salgono a 15 gli appalti privati, e gli indagati per gli appalti privati di bussi scattano i sigilli a tre immobili del tecnico di Carlo a Pescara e Silvi. E poi il vino dei tersini vince a Cannes, l'azienda toccolana in vetrina con il Cerasola, il Pink International Rosé Festival. Prima di passare alle altre notizie, apriamo la pagina del messaggero e andiamo a vedere le notizie dal capoluogo. Il destino dell'ospedale è una priorità sulla pagina aquilana, la sanità al centro del dibattito, nelle primarie PD. Pietrucci richiama a raccolta regione, manager e medici di Benedetto, basta con le disparità, il nostro combio cittadino deve continuare ad avere un ruolo di riferimento abruzzese. Ancora, rogo a San Giacomo e con le brincioni, il vento allontana il pericolo dalle case. Nel taglio basso, corsi fantasma, condannato Lombardo, i 120 mila euro servivano per lo svolgimento di un progetto tratta in inganno la Fonda Artigianato. Sempre dall'Aquila, Palazzo Pascali restituisce antichi tesori dagli scavi archeologici. Avviati nell'ambito della ricostruzione, sono emersi un chiostro e una serie di importanti reperti. Le testimonianze riguardano almeno due grandi periodi storici, il primo Cinquecento e l'ultimo quarto del XIX secolo. Scendiamo nel taglio basso, anche i sindaci del cratere alla fiaccolata del 6 aprile per celebrare il terremoto. E poi Avezzano Sulmona, inseguito dai carabinieri, muore l'infarto Danilo Tatangelo, 39 anni, trovato senza vita, pieno di ferite sul petto. Il sostituto Savelli dispone l'autopsia. Secondo la ricostruzione dell'arma, avrebbe tentato la fuga per sfuggire a un controllo vicino ad un impianto fotovoltaico. Nel taglio basso, notti violente, giro di vite sulla Movida, Sulmona. Quattro arresti e due denunce dopo l'operazione della polizia per le aggressioni del sabato sera. Sempre da Sulmona, Ovidio, inizia la settimana clou di eventi che vedrà il 6 aprile la presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella. Andiamo sulla pagina di Chieti, ora il Comitato dei 300 Ermellini in campo in difesa del Policlinico. Direttori e docenti di medicina e delle altre facoltà firmano l'appello per il Santissima Annunziata lanciato da Ammastro Pasqua. Rischio di declassamento per medicina nelle ipotesi di creazione di un ospedale di secondo livello in tandem con Pescara. E poi la stangata contestata, Tari su del 20% di primio difende l'aumento e i rincari nella città di Chieti. Andiamo nella pagina di Lancianova Stortona, Tari agevolata per chi produce, tassa su rifiuti da pagare in quattro rate, la prima rata a maggio, attività divise in 32 categorie e sconti fino al 50%. Il sindaco Pupillo e l'assessore Valente, il servizio costa 4 milioni e 800 mila euro circa, la spesa media pro capite di 137 euro, così a Lanciano la Tari. Poi un incendio lambisce le ville in centro, paura tra i residenti, vigili al lavoro, sempre notizia che arriva da Lanciano. Invece da Vastro, trimestre record per il traffico merci, il riscatto del porto di Punta Penna. Passiamo alla città per andare a vedere le notizie da Teramo e provincia. Identificato lo sparatore di piazza Martiri. I carabinieri sono risaliti all'autore del gesto dimostrativo grazie alle telecamere e alle testimonianze. Andiamo ancora avanti, il rimpasto tagli e cuci per le nuove deleghe in giunta. Dodo becca bilancio e ricostruzione pesante, Antonini la sicurezza, la provvisiera o scuola e cultura. Vedete, deleghe e nomi e volti della nuova giunta, la quarta per il sindaco Brucchi. Casa dello studente a maggio, il progetto definitivo, l'operazione dell'Università di Teramo e dell'ADSU va avanti a tappe forzate. Ieri la firma dell'accordo di programma in municipio. Ancora dal capologo aprutino teatro romano, le associazioni vogliono partecipare. Teramo Nostra, Demos e comitati di quartiere incalzano l'amministrazione sul restauro e recupero del sito. Andiamo in provincia, abusa dei figli di lei durante le vacanze. La procura di Teramo apre un fascicolo per violenza sessuale nei confronti di un 45enne romano. Le indagini non è escluso che i due bambini saranno ascoltati in un'audizione protetta. Ancora la cronaca, nasconde mezzo chilo di droga nel garage di casa. Un 41enne di controguerra arrestato dai carabinieri e processato per direttissima. Ancora ritrovata a Rimini l'auto rubata a Martinsicuro. La Mercedes è stata sottratta da un cleptomane di Villa Rosa, già noto per fatti simili. A Martinsicuro le multe antiprostituzione si pagano anche a rate. Rinnovata ieri l'ordinanza di divieto di contrattazione delle prestazioni sessuali in strada. Da Alba Adriatica, discarica abusive lungo la strada al ferro di cavallo, spazzature ingombranti e padelle abbandonati da giorni. Andiamo avanti. La pagina di Giuliano Vamosciano. Il progetto contestato Marozzi lo chiamerò Arbor House. L'imprenditore convoca la stampa e annuncia la realizzazione delle palazzine in piazza della chiesa. Pazienza finita. L'imprenditore Giuliesi ha titolo per costruire, ma non riesce per gli ostacoli del comune. Andiamo sulla pagina di Roseto Pineto a Tre Silvi. Roseto ha il suo ristorante particolare, un ristorante di sushi. E poi la politica. Articolo 1 apre un dubbio in maggioranza. La presentazione di giovedì non passa inosservata la presenza di Gianfranco Marini, zio del consigliere PD. Noi adesso apriamo la pagina dello sport e allora andiamo a recuperare il centro. Andiamo ad aprire l'Abruzzo Sport. Il ritorno di La Padula in Abruzzo. Io e la regione gli anni più belli. Questa terra mi ha adottato, io sono riconoscente. Brividi e lacrime prima di Pescara Trapani dei play-off. L'intervista esclusiva all'attuale attaccante del Milan che racconta i suoi anni vissuti in Abruzzo. Domani per la partita dell'Adriatico rientreranno Baebec e Campagnaro. L'attaccante al centro del tridente con Benagli e Caprari esterni. In difesa l'Argentino insieme a Bovo. In mediana Montari favorito su Bruno. Cerri va verso l'esclusione. Per Stendardo si allungano invece i tempi di recupero. Andiamo avanti con la Lega Pro. Oggi alle 18.30. Ugolotti vai Teramo. La salvezza dipende solo da noi. C'è la San Benedettese al Bonoli. Se il tecnico ci crede abbiamo cambiato qualcosa e siamo sulla strada giusta. Andiamo a vedere anche come titola la città a proposito del Teramo. Focus sempre puntato sul Teramo appunto per la città. Carica Teramo battere la Samb per la salvezza. Il diavolo alla prova del derby. Oltre 500 marchigiani attese al Bonolis. Sorpresa davanti gioca Fratangelo. Partita verità. Per Ugolotti il Teramo ha i mezzi per salvarsi direttamente. E allora andiamola ad ascoltare il tecnico del Teramo. Siamo al punto che ogni partita per noi è importantissima. Veniamo da due partite in cui siamo riusciti a fare risultato. Dobbiamo continuare perché la classifica ce lo impone. I ragazzi si sono allenati in maniera positiva. Io da quel punto di vista sono tranquillo. Sono tranquillo che faremo la partita che dobbiamo fare. A me interessa la squadra. A me interessa. Il resto è di conseguenza i risultati. Io guardo l'aspetto della squadra. L'aspetto del campo. La partita di verità è quella con la San Bernardese. Io guardo, lo ve l'ho già detto l'altra volta, guardo partita per partita. Noi siamo messi in una condizione che non possiamo sbagliare nessuna partita. Perché se dovessimo sbagliare la partita con la San Bernardese probabilmente la partita con l'Ancona avrebbe un aspetto diverso. Noi dobbiamo, i ragazzi lo sanno, siamo in una condizione di classifica per cui oggi sbagliare una partita così poche giornate dalla fine sarebbe deleterio. Perciò la mentalità è quella di guardare partita per partita. Che avversario si aspetta? È un avversario importante. Un avversario importante perché è stato capace dopo una lieve crisi di tre risultati negativi di fare in quattro partite, mi sembra che ha fatto dieci punti. È una squadra che ha il capocannoniere del campionato, di conseguenza sicuramente col morale alto. hanno lì a portata di mano posizioni importanti di classifica. Vedo che già stanno programmando un futuro prossimo, di conseguenza penso che abbiano programmi importanti e non vogliono sbagliare quest'anno. Di conseguenza mi aspetto una partita molto ma molto difficile. Il discorso è sempre quello, se si prendono pochi gol indubbiamente si tiene la partita in equilibrio. Probabilmente in questo momento occasioni da gol, io vedo un pochettino tutte le partite, non è che anche le altre squadre ne creano molte. Molte si preoccupano di concedere poco. Io penso che la via giusta sia quella. Dietro abbiamo concesso poco, stiamo cercando, a parte la partita con il Gubbio, torno a ripetere, che è un episodio a parte perché indubbiamente fare sei gol in una partita è cosa molto ma molto rara. Però a me interessa il fatto che anche fuori casa siamo arrivati 4-5 volte. Piano piano, forse dovevamo sbrigarci un attimino prima, però piano piano speriamo di continuare su quella strada. Io dico che questa squadra ha le possibilità per salvarsi direttamente. Dipende solo ed esclusivamente da noi. Prima di passare alla Serie D, ricolleghiamoci un attimo al Pescara attraverso il Teramo con le parole dell'ex tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini. Vi racconto il mio Lapadula, il tecnico che ha rilanciato l'attaccante proprio quando era al Teramo. È una persona speciale, il successo non lo ha cambiato. Sarebbe titolare in quasi tutte le squadre di Serie A. Senza di lui il progetto tecnico di Oddo ha perso forza. Questa è l'opinione di Vincenzo Vivarini. Torniamo adesso invece sul quotidiano Il Centro e andiamo ad aprire come detto la pagina della Serie D restando sempre al calcio. Domani al Dei Marsi il derby Padovani. Si gioca il derby in famiglia. Ettore, la punta dell'Avezzano. Il papà è un tifoso dell'Aquila. Pomeriggio speciale, ma se segnerò sarà contento per me. E davvero sarà un pomeriggio particolare quello allo stadio Dei Marsi di Avezzano. Noi sul derby andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dell'Avezzano, Pino Tortora. Tortora, allora, domenica c'è questa partita con l'Aquila che arriva dopo la vittoria di Rieti. È un derby sentitissimo che torna ad Avezzano dopo 23 anni. Una partita che in un certo senso può valere anche la stagione. No, può valere la stagione, dipende dai punti di vista. Per noi è una partita importante. È chiaro che sappiamo in quale condizioni giocheremo perché praticamente non so che partecipazione ci sarà da parte dei nostri tifosi. Però è chiaro che ce la metteremo tutta per portare dalla nostra parte la partita sicuramente. Una gara difficile come tutte con una formazione l'Aquila che nonostante le tante defezioni delle ultime settimane nell'ultimo turno ha battuto in pratica con tanti ragazzi in squadra all'Alba Longa per 3-1. Ma io credo che, tutto il rispetto per i ragazzi che non ci sono, che sono andati via, credo che l'Aquila abbia una rosa, una squadra da primissimi posti sicuramente. I play-off per la rosa che ha stanno stretti, perché sono giocatori importanti. immaginatevi un po' se fossero stati tutti al completo alla fine. Poi giocano 11. Noi sappiamo che stiamo bene, che sappiamo che è una partita importante, è una partita di cartello. Ripeto, faremo di tutto per vincere, anche se sarà molto difficile. A proposito di play-off, di cui lei parlava qualche istante fa, sotto sotto ci sperate ancora? Finché la matematica non ti condanna bisogna sempre sperarci, se no ci sarebbe motivo avere ancora... Poi la caratteristica delle mie squadre è quella di giocare fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di campionato, l'ultimo secondo di campionato, sempre con la stessa intensità. Quindi ci sono ancora 6 partite, sono 18 punti, potrebbe succedere tutto. Non è facilissimo, però ci proviamo fino alla fine. Rapidamente il basket, il Roseto a Iesi con la carica dei 600, domani in campo pronto un altro esodo di tifosi, la Guardia Devis carica la Proger, salvezza la portata, ma non si può più sbagliare. E poi andiamo a vedere il calcio a 5 dal messaggero Pescara al Palarigopiano Cellatina, in caso di successo primo posto matematico e poi la Questapone senza gli infortunati, di Murillo e di Olivera e di scena a Rieti. Ci dobbiamo fermare, il nostro tempo è terminato. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e un buon weekend.